Domani in campo le abruzzesi di Serie D per la tredicesima giornata, fischio d'inizio alle 14.30, Termoli Chieti sarà trasmessa in diretta tv sul Rete 8. L'Aquila, ospite della capolista, Samb, Avezzano in casa contro il Roma City, notaresco, aspetta il Matese per uno scontro salvezza. Il Chieti, con 300 tifosi al seguito, cerca la settima vittoria stagionale a Termoli, Dubbio Masavud, Out, Benigni e Barbetta. Sono tornati in gruppo Gatto e Postiglione, Dianboa e Saluti, l'ex Pescara ha rescisso il contratto e probabilmente andrà a Riccione. Il direttore Sartiano pronto a prendere un nuovo regista, la priorità però è sfoltire prima una rosa piuttosto ampia, arbitra Massari di Torino. L'Aquila, con la spinta di 500 tifosi, sarà impegnata a Riviera delle Palme, casa della capolista Samb. Cappellacci ha recuperato tutti i giocatori della rosa e punta sulla formazione che ha battuto l'Avezzano nel derby di domenica scorsa. Si scaldano gli ex Angiulli e Bacio Terracino, dall'altra parte l'aquilano Doc Scimia per la prima volta sfida la squadra della sua città, arbitra recupero di Lecce. Allo stadio dei Marsi di Avezzano arriva il Roma City, Biancoverdi a caccia del riscatto dopo il K.O. nel derby contro l'Aquila. I capitolini sono sesti in classifica e vantano il miglior attacco del girone con 27 gol. Potrebbe avere una maglia da titolare l'ultimo arrivato, il centrocampista ex Lazio o nazi. Ferrazoli ha diversi dubbi, Roberti, Ferrani e Costa Ferrera. Luciani rimarrà sicuramente fuori causa per uno stiramento, arbitra Selva di Alghero. Chiude il quadro il notaresco che ospita il Matese in uno scontro diretto da non fallire. Recuperato da Loia ma andrà in panchina, dal primo minuto Pierantonio a sinistra. Pulsoni e Forcini a destra. L'argentino Belloni in attacco con Bonfiglio che ha superato un fastidio alla coscia. Mercato potrebbe salutare presto l'attaccante Ranieri, per lui sirene dall'eccellenza, Giulia Nova su tutti. In arrivo Carnevali dall'Aquila Montevarchi, arbitra Giordani di Grosseto.